Gerber, non l'avamo detto, eh? Non succede, ma se succede... No, 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 io la barba no. Sì, sì? Ci tagliamo tutti e due la barba. No, 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 soltanto non succede, no? E se succede? Non pensate al Manchester! Dove eravamo rimasti? Ah sì, alla Roma quella che non vince contro le grandi, ma poi ha iniziato a non vincere anche contro le squadre medie e anche quelle piccole. L'unico a metterci la faccia è il nostro mister Paolo Fonseca. Avete visto qualcun altro? Avete sentito qualcun altro che ne parla? E sarà proprio il mister Fonseca probabilmente a rimetterci il posto a fine anno, come tutti i suoi predecessori. E poi succede che si va avanti però in Europa League. Ogni partita è più difficile rispetto al turno precedente. Prima il Braga, poi lo Shakhtar e infine l'Ajax. Domenica contro il Torino una brutta sconfitta e le ultime sette di campionato non potranno essere come quella di Torino. No no, vincere aiuta a vincere. Per diventare grandi serve la mentalità. Ci risiamo ragazzi, la Roma perde e ripartiamo casa, la Manfrina. E quello doveva giocare lì, quello doveva giocare qui, quello lì, però giocavo così, giocavo lì. Al gioco del calcio bisogna buttare la palla nel sacco, bisogna fare gol, perché se tu gol non lo fai, dagli e dagli, succede che poi il gol lo prendi e te ne mangi uno, te ne mangi due, te ne mangi tre. Comunque ricordiamoci che siamo ancora in semifinale di Europa League. E a volte i miracoli nel pallone esistono. Quindi credemoci e dagli Roma, dagli. Ora giovedì contro l'Atalanta, il Tour de Force continua e poi domenica a Cagliari. Non pensate al Manchester. Forza Roma! Grazie a tutti.